E' bella questa versione tratta sempre dalle confessioni di Sant'Agostino, dove Agostino riporta le difficoltà che aveva incontrato da fanciulo, da ragazzo, a studiare la lingua greca. Non voglio dire prima del tempo la fine di questa versione, che per lo più nei libri di versione viene tagliata, si rimane qui a necessitatem, ci si ferma a necessitatem. E poi si dimentica l'ultima parte, un po' il sistema oggi di coloro che vogliono fare, si dice della cultura, prendendo da autorità a livello di Agostino, però fanno poi dire ad Agostino quello che vogliono loro. Io invece ho voluto aggiungere nella versione che era riportata sul testo e che si fermava a necessitatem, ho voluto terminare con quello che appunto segue. E' una lezione di pedagogia, direi. Vediamo di tradurla. E non è molto semplice, perché è un latino non più classico alla maniera di Cicerone, come al solito nelle confessioni, non ci sono frasi elaborate con tantissime subordinate, però trovare le regole non è sempre così semplice. Vediamo un po'. C'è un punto interrogativo, c'è una proposizione principale interrogativa, c'è un Odeam. Ricordiamo di Odisse, è un verbo difettivo dove oltretutto i tempi composti hanno valore di tempo semplice. Quindi qui è un più che perfetto, ma io lo devo tradurre con un imperfetto. Perché perciò Odeam, odiavo, grecam etiam grammaticam, anche la grammatica greca, cantantem, taglia, che proponeva, che cantava, che presentava taglia, tali cose. Mi raccomando, qui ho visto delle traduzioni orribili su questo cantantem. Cantantem è un accusativo e quindi deve essere attaccato a grammaticam. Grammatica, cantantem, taglia, complemento, oggetto di cantantem. Cantantem è un participio presente. Nam, et omerus peritus, texere talis fabellas, et dulcissime vanus est, et mi tamem amarus erat puero. Qui manca un est, perché abbiamo omerus peritus, sì, ma omero perito, perito nel senso di esperto, io ho tenuto un est, non ho messo un era, perché ho visto che c'è un est anche dopo, anche se poi si passa a erat. Perché? Perché l'imperfetto riguarda la vita di Agostino, quindi Agostino ricorda il suo passato, mentre parlando di, scrivendo di omero, e della sua arte, e del suo stile, uso il presente, che è assoluto, nel senso che l'opera di omero è lì presente, anche se evidentemente è stata prodotta, quanti è? Più di 2500 anni fa. Infatti, e omero è esperto a raccontare tali racconti, a presentare, a tessere tali favole, e è dolcissimamente vacuo, evidentemente è uno simoro, nel senso che secondo Agostino i contenuti della sua opera sono leggeri, non proprio impegnativi, anche se presentati con una grandissima dolcezza. E tuttavia, nonostante che fosse esperto a raccontare queste favole, fosse vacuo e assai dolce, e tuttavia era pesante, amaro, mi puero per me, franciullo. Mi raccomando sempre, anche nelle traduzioni, guardate i casi, amarus e la parte nominale, erat amarus, perché mi è puero e da me sono da mettere assieme. credo eziam grecis pueris vergilius itasit, cum eum sic dicere coguntur ut ego illum. Dunque, qui c'è un problema, un problema però che non dovrebbe crearci delle difficoltà più di tanto, ma che ci potrebbe anche porre dei punti interrogativi. ve lo traduco prima. Credo che anche per i fanciulli della Grecia Virgilio sia così. Vedete che questa subordinata che inizia con Ezia e ha come verbo sit non è introdotta da nessuna particella subordinante. Si pensa che questa sia la tarda latinità. Tuttavia ci sono dei verbi che possono essere costruiti con l'infinito solo credo vergilium esse o con l'infinitiva o con l'util congiuntivo oppure con il congiuntivo da solo. Però credo non fa parte di questi verbi. I verbi sono volo nolo sono i verbi di preghiera ma credo non fa parte di questi verbi tuttavia sono quelle discrepanze io ho sempre spiegato che la subordinata se in forma esplicita deve essere introdotta da una particella subordinante e qui non c'è attenzione perciò credo dunque che che lo devo mettere io che Virgilio anche Virgilio sia così per i fanciulli della Grecia cum coguntur è l'indicativo quindi quando sono costretti discere di imparare così quello come io quello c'è sottointeso quattro sum discere come io sono stato costretto ad imparare quello qui stiamo parlando di Omero quindi non so se è chiaro il pensiero per me era stato è stato difficile imparare Omero perché ero latino e dovevo studiare in questo modo la lingua greca per i bambini della Grecia probabilmente c'è la stessa difficoltà ad imparare Virgilio che ha scritto in latino perché ma perché c'è questo c'è questo verbo sono costretto non bisogna costringere è un insegnamento di pedagogia e ci sta bene io vi ho detto più di una volta provate a studiare queste lezioni di latino non come se fossero delle lezioni di latino pesante ma come un gioco come se aveste in mano la settimana enigmistica invece di fare di andare incontro a dei giochi sciocchi a volte sono proprio sciocchi e inutili proviamo a imparare culturalmente anche una lingua che ha uno suo spessore e potrebbe avere anche una sua funzione culturale vedete che c'è qui dividerice difficoltas difficoltas e difficoltas ripete di nuovo un nino dicende lingue manca un verbo evidentemente era la difficoltà la difficoltà assolutamente la difficoltà un nino è un avverbio e qui abbiamo un genundivo col suo complemento oggetto al genitivo quindi il genuntivo lo traduco con l'infinito preceduto da di di imparare e il nome che sta nel suo stesso genere numero caso è il suo complemento oggetto una lingua straniera quasi il quasi latino introduce una comparativa condizionale come se aspergesse di fiele tutte le soavità greche delle narrazioni favolose anche qui non è proprio facile ricordatevi specialmente per le confessioni St. Agostino non è difficile come struttura sintattica ma come vocaboli come costruzioni come lessico qui c'è scritto Noveram e nuovamente Novisse un verbo difettivo dove i tempi composti valgono da tempo semplice questo è un più che perfetto ma io lo traduco con l'imperfetto attenzione poi allora la traduzione è conoscevo poi qui c'è una negazione quindi non conoscevo c'è un infatti infatti non conoscevo poi abbiamo un complemento oggetto nulla verba il nulla corrisponde in italiano nessuno soltanto che nessuno in italiano solo i singolari io non posso fare i nessuni perché sarebbe nessune parole quelle quelle parole nessune non posso tradurre infatti non conoscevo quelle nessune parole allora cerchiamo di mettere in italiano infatti non conoscevo nessuna di quelle parole e instavatur mi bementer questa è la regola se voi andate a vedere il mio manuale di latino dove c'è la costruzione dei verbi che reggono il dativo al passivo instavatur regge anche il dativo è al passivo quindi mi è il suo soggetto e io ero incalzato violentemente con terribili minacce e pene ut nossem finale sta per novissem novissem l'abbiamo visto con noveram è un piccolo perfetto congiuntivo che però ha valore di imperfetto perché le conoscessi perché le imparassi penso che sia chiaro tuttavia se non è chiaro con la registrazione la potete sentire bisogna se uno non conosce la costruzione dei verbi che reggono il dativo in modo particolare quando il verbo che reggono il dativo è in costruzione passiva e dove quindi il verbo nella costruzione passiva viene messo sempre alla terza singolare bisogna subito cercare un dativo che è il suo soggetto nam et latina lequando infans utique nulla noveram et tamen advertendo didici sine ullo meto atque cruciato interesse amblandimenta nutricum et ioc arridencium et letizias alludensium dunque come vedete è tutta principale con una coordinata non ci sono subordinate infatti abbiamo un et che unisce noveram con didici infans è il soggetto il soggetto che io fanciullo soggetto di noveram che è la prima persona e poi c'è un infatti e poi di nuovo attenzione c'è nulla latina di nuovo con sottinteso verba nessuna come prima c'era greca verba nessuna parola latina poi c'è l'iquando un tempo una volta e utico e che ha valore di omnino è un avverbio sono andate a cercare il suo vocabolario vuol dire assolutamente infatti a poi anche questo et voi ricordate che et oltre al valore di et di e ma a parte il fatto che qui potrebbe anche voler dire et et sì lasciamolo come coordinata se no poteva avere valore anche vediamo come cos'è meglio se mettono in coordinazione sia sia e e oppure tradurlo con anche infatti noveram non avevo imparato nulla latina nessun vocabolo latino assolutamente infans da fanciullo aliquando un tempo mettiamo una e allora infatti e non avevo imparato nulla latina verba nessun vocabolo latino assolutamente utico aliquando un tempo infans da fanciullo e tuttavia didici è il perfetto didisco le imparai advertendo è un gerundio dunque io ho sempre detto che gerundio e gerundivo corrispondono in italiano all'infinito tranne nel caso in cui il gerundio latino è un ablativo per carità posso anche tradurlo con l'infinito advertendo con lo stare attento però con lo stare attento non sta molto bene traduciamolo col gerundio italiano stando attento e tuttavia le imparai stando attento si ne un lometo senza alcuna parola e alcuna minaccia anche tra blandimenti a nutri com gli inviti delle nutrici blandiventa può avere molti significati tra le dolcezze delle nutrici e i giochi di coloro che mi sorridevano e le lettizie di coloro che giocavano vedete che qui abbiamo al ridensium e alludensium due participi presenti che fanno da sostantivo quindi rientrano nella regola laddove il participio presente si traduce con colui che laudas colui che loda qui colui che sorride colui che gioca è un genitivo plurale fanno da sostantivo didici vero il sine penarione all'urgentium cum me urgeret cor meum ad parienda concetta sua didici qui c'è solo un cum che regge urgeret cor meum e poi ad parienda concetta sua ad è l'accusativo del genitivo mi dà una finale in forma implicita didici in vero imparai quelle parole sine onere penale senza l'onere penale senza il peso minaccioso urgentium di coloro che mi mettevano fretta anche qui un participio presente che fa da sostantivo cum urgeret mettendomi fretta cor meum il mio cuore ad pariendam concepta sua a esporre a produrre sua concepta le sue idee i suoi pensieri quindi era un'esigenza mia del cuore e non un'esigenza imposta dall'esterno poi qui continua in questo modo id quod non est nisi aliqua verba eccetera eccetera ciò che non sarebbe però cosa succede che se io non ci metto questo est per carità si può tradurlo non si può mettere ciò che non sarebbe io però cerco di seguire la regola poi se qualcuno la vuole seguire la segue altrimenti vede la traduzione e basta perché c'è un punto e virgola mi manca una proposizione principale e questa proposizione principale è sottointesa in questo est è ciò che non sarebbe nisi se non avessi imparato alcune parole non docentibus dagli insegnanti ma da coloro che parlavano in aurribus quorum nelle orecchie dei quali nelle cui orecchie et io anche io parturieva parturire generavo producevo quid quid sensieva tutto quello che sentivo tutto quello che provavo notate allora tornando indietro che qui c'è una relativa est id quod ciò è che non sarebbe è ciò che non sarebbe no docentibus eloquentibus sono di nuovo due participi presenti utilizzati molto frequentemente da Agostino dei participi presenti che fanno da sostantivi e poi attenzione questo in perché devo andare a trovare l'ablativo nelle orecchie dei quali che poi non posso mettere in italiano nelle orecchie dei quali nelle cui orecchie et ego qui non posso tradurlo con un et e ma anche io è importante ricordare di et questo significato anche perché delle volte se io non mi ricordo che et corrisponde ad anche non riesco a tradurre anche qui abbiamo la principale dove c'è un'infinitiva no un'infinitiva quella in rosso e da dicenda ista di nuovo una finale che si esprime con un ad l'accusativo del gerundio gerundivo da qui elucet elucet satis è chiaro a sufficienza che cosa vim maiore mavel che ha una maggiore forza a discenda ista ad imparare con queste cose la libera curiosità che la meticolosa necessità e quello che dicevo io prima molto spesso le versioni si fermano qui come per dire vedete anche Agostino afferma che le cose devono essere giocose piacevoli altrimenti se c'è lo sforzo se c'è lo sforzo se c'è la punizione ecco che tutto va a rotoli non è così perché bisogna continuare e terminare il pensiero di Agostino altrimenti sempre come al solito come fanno i nostri politici i nostri giornalisti deviamo dal pensiero originale sed attenzione che bisogna collegarsi sempre con la precedente sed ilius fluxum ec restringit legibus tuis ec è il soggetto e si riferisce alla meticolosa necessità ma questa cioè la meticolosa necessità la legge restringe regola fluxum in leus cioè la libera curiosità la debolezza di quella stiamo parlando della curiosità legibus tuis con le tue leggi o Dio ricordatevi che il complemento di vocazione Deus può fare vive oppure Deus come al nominativo con le tue leggi e poi fa degli esempi dalle verghe dei maestri fino alle torture dei martiri dalle tue leggi valenti restringiti miscere costringe a mescolare salubri amarezze che richiamano noi a te aio conditate pestifera dalla pestifera passione a causa della quale ci siamo allontanati da te notate di nuovo una serie di participi presenti no? revocantes in modo particolare che sta con amalitudines allora Agostino dice con molta chiarezza indubbiamente la libera curiosità aiuta maggiormente però anche le leggi sono importanti e le leggi anche delle verghe dei maestri fino alle torture dei martiri dalle leggi valenti le tue attraverso cui questa cioè la meticolosa necessità ci costringe a mescolare salubre amarezze che ci richiamano noi a te verso te aio conditate pestifera dalla giocondità pestifera dalla passione pestifera qua a causa della quale ci siamo allontanati da te allora completiamo dunque in questo modo il pensiero di Agostino per non sempre partorire delle sciocchezze o dei piccoli aborti ok